Ciao a tutti ragazzi sono Ramden e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo su Assassin's Creed Unity e volevo farvi vedere Un easter egg molto molto carino Soprattutto se sapete come finisce Unity Siamo a Varsail e dovremo Raggiungere la casa Dei De La Serra e andare nel loro giardino Da moltissimo tempo che non facevamo video su Unity Siamo qui con il nostro Arno Eccoci qua, questa è la casa Dei De La Serra Dove abbiamo iniziato la storia con il nostro caro Arno Dorian La casa oramai crolla Tutta a pezzi Usciamo fuori Questo è il giardino E dovremo andare qui E diciamo che questo easter egg Non è altro che la tomba di Elise Eccola qui Che potete trovare una volta finito il gioco qui Che come sapete Germain la uccide Con la spada dell'Eden Eccoci qua Diciamo E' anche un bel posto E qui invece c'è anche la tomba del padre C'è un suo del laser E beh ragazzi Se questo piccolo video vi è piaciuto Lasciate un like Noi ci vediamo come sempre al prossimo video Ciao